le stelline che sono fondamentali quindi sono una paletta ora andiamo a cercare la 2 rossa 2 rossa di qua vai la 3 rossa la 3 rossa la 3 rossa la 3 rossa più ripetine meno flow anche con questi bambini però bella e si viaggia ragazzi saltino così e si passa alti qui abbiamo percorso ostacoli e giù bellissimo incrocio jump jump e jump e si va qui qui? 2 e di qua tanta lana tanta lana ragazzi sto per sto partiti tanta tanta lana troppe il bumper il bumper a non finire si molla e si accelera si molla e si accelera bello ci ho perso tutto guidato variante 7 variante 7 non si continua sulla 2 variante 7 si fa dopo e si bello bello cazzo e ci ria a casa e stili mamma mia che dico non lo so qui non è andato cazzo w'hooo E qui? Questa è la 3, io voglio andare la 2, fatemi fare la 2, e poi la 3 la riprovo, fatemi fare la 2, e giù. Tutto alto, e giù. E qui? Un po' di... Alto, e giù, mamma mia che spettacolo! Alto e giù! Oh, le montagne russe ragazzi, le montagne russe che spettacolo! Che spettacolo! Bellissimo! Spettacolare, veramente! Poi sono lunghissimi sono! Sono lunghissimi, bellissimi! Mamma mia questi 2, bello! Guarda qua! Un piccolo saltino, comunque! Fate questi bumper! Sono un po' noiosini! Finisce! Finisce del 2! Con un curvone finale! Un po' via! E curvettina! Bellissimo! Un po' via! 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 Un po' via!